Erika, pianta e sue proprietà. Erika, una pianta nota soprattutto per il suo fiore che, seppur piccolo, ha un effetto e un fascino indescrivibile. Il nome di questa pianta deriva da un'antica parola greca? E? Ereiche, tra le preferite da Eschilo e Teocrito, una parola che richiama anche al nord Europa, all'antico irlandese Froech, all'Etone Virese con Caroni e al lituano Virzeta con Caroni. In Italia resta nota con il suo nome e la troviamo nei giardini, come pianta ornamentale, oppure sotto bosco o nei pressi delle zone umide per sua iniziativa privata ma molto piacevole agli occhi. Erika, pianta perenne. La famiglia di appartenenza di questa pianta perenne è quella dell'Erika Cee. Esistono circa 700 specie diverse, la maggior parte, oltre 660, risultano essere originari del Sud Africa. In particolare nascono nel Finbos, una landa tipica della regione del Capo. Le specie rimanenti sono in parte ancora africane oppure endemiche dell'Europa ma sempre restando in zona mediterranea. Al di là della provenienza geografica, che ne determina anche alcune caratteristiche morfologiche, tutte le specie sono sempre verdi, perenni e di tipo arbustivo. Le dimensioni possono variare, addirittura fino ad altezze che sfiorano 1.80 cm, quanto una persona alta. Quella è l'Erika arborea, ed è una eccezione, si può dire, perché la gran parte delle sue sorelle sono piante tappezzanti. Dalla definizione possiamo intuire che non superano i 25-35 cm, circa. A qualsiasi quota si sviluppino, le foglie di Erika sembrano aghi, sono sottili e aguzze, anche un po' carnose. Spuntano da rametti sottili, semi legnosi, non troppo ingarbugliati. C'è poi una intrusa, la Calluna, che in verità faceva parte del genere ma è stata separata. Si chiama Brugo, Calluna vulgaris, ma è nota come falsa Erika, o Erika selvatica e la si può distinguere aguzzando gli occhi e notando che ha foglie più piccole, di un paio di mm circa, e corolla e calice divisi in quattro parti. Quelli della nostra vera Erika sono divisi in cinque. Erika, il fiore, quando pensiamo all'Erika, almeno per me è così, pensiamo al fiore. A quello porpora, con un'aria un po' selvaggia, in zone poco frequentate. In verità il fiore di questa pianta può essere anche di colore bianco, rosa e rosso, sbuca in autunno o in primavera e ricopre le piante letteralmente tappezzando distese di terreno con una densa fioritura piena di carattere. Sono fiori minuti ma di grande effetto, la maggior parte delle specie li accampanulati, con una corolla quasi cilindrica. Il fiore più grande figuriamoci che è di un paio di centimetri e a sfoggiarlo è l'Erika mammosa. Erika, proprietà della pianta, sono più che altro legate a credenze popolari le proprietà di cui si racconta per una pianta come l'Erika che non è tra le più utilizzate per fini medicinali. L'ambito in cui potrebbe agire è quello del trattamento di infiammazioni delle vie urinarie, cistiti, uretriti e litiasi uratica. Il fatto è che come pianta contiene piccole quantità di glucosidi idrochinonici, quantità che risultano insufficienti per ottenere un vero effetto disinfettante per vie urinarie. Da questo punto di vista, si preferiscono altre piante medicinali, ad esempio il corbezzolo e l'uva ursina. La presenza di tannini fa sì che si parli di proprietà astringenti, questa pianta può quindi risultare utile in caso di diarrea. Se se ne fa uso esterno l'Erika riesce ad attenuare le infiammazioni cutanee, attraverso degli impacchi, oppure agisce sulla mucosa orale con risciacqui. Non è una pianta tossica ma è importante rispettare indicazioni e controindicazioni. Chi soffre di insufficienza epatica o di ipersensibilità ai suoi componenti è meglio che eviti questa pianta e in ogni caso se se ne assumono dosi troppo elevate si rischia di irritare l'intestino. Non è una proprietà curativa ma resta interessante il fatto che il legno di erica arborea, chiamato radica, viene utilizzato per produrre pippe. Infatti è molto duro e, chi lo conosce lo confermerà, ha una naturale colorazione molto gradevole. Erika, cura e coltivazione, cresce anche autonomamente ed è quindi una pianta che se la cava anche da sola, ma chi la vuole coltivare ad esempio per scopi ornamentali può farlo, senza troppi sforzi. Non va messa in zone con luce diretta e il terreno consigliato varia da specie a specie. Le più diffuse sono, ecarnia, e arborea, e scoparia, e mammosa, e gracilis. E la falsa calluna. Senza impazzire ma ha bisogno di irrigazione regolare in modo che non si creino mai ristagni. La concimazione deve avvenire ogni 15 giorni, in primavera. In generale è una pianta che non ama il caldo, sui 4 gradi centigradi sta bene. Erika, immagini, se non utilissima per diretti fini medici, l'erica fa un gran bene allo sguardo e all'umore, io la trovo molto rilassante quando fiorisce. Queste immagini mi danno ragione. Erika, dove comprare le piantine? A meno di 5 euro o linee si possono facilmente trovare delle piantine di Erika Darleyensis meglio nota come rosa. Questa specie produce un piccolo arbusto con le classiche foglie simili ad aghi, leggermente carnose. Tra l'autunno e la primavera ci regala fiori minuti e campanulati di colore rosa. Se la teniamo in casa è necessario che le forniamo umidità sufficiente in modo continuo, bagnandola tutti i giorni. Erika, semi, si può iniziare con la piantina ma anche con il seme. Ci vuole più tempo ma non mancheranno le soddisfazioni. Il prezzo è simile, siamo sempre a circa 5 euro, per una confezione di semi promettente. Questi sono di Erika Spiculifolia.